Ho fatto tutti i viaggi internazionali e nazionali di Papa Francesco, ho fatto tutti i viaggi di Papa Ratzinger, ho fatto tutti i viaggi degli ultimi anni di pontificato di Giovanni Paolo II e moltissimi di quelle precedenti, ma mai nessun viaggio mi ha colpito, mi ha emozionato, mi ha commosso, come questo di Papa Francesco in Iraq, dove è andato per portare una carezza, la carezza della Chiesa, la carezza di Dio ai cristiani perseguitati. Eravamo da poco scesi dall'aereo, abbiamo viaggiato insieme, noi giornalisti della Stampa Internazionale, un piccolo gruppetto insieme al Papa, eravamo scesi all'aeroporto di Bagdad, stavamo andando verso il palazzo presidenziale, quello che fu il palazzo di Saddam Hussein, da dove si decisero tutte le fasi delle guerre del Golfo e avevamo poliziotti in assetto di guerra lungo le strade, avevamo gli elicotteri che sorvegliavano il nostro convoglio, avevamo i droni, i droni larghi che non avevo mai visto così grandi, avevamo i blindati con i soldati con le mitragliatrici davanti e dietro di noi e mi chiedevano perché il Papa è dovuto venire qui, perché è dovuto venire in periodo di pandemia, perché ha dovuto testardamente superare tutte le obiezioni di sicurezza, anche in Vaticano molti hanno sconsigliato questo viaggio e a un certo punto ho capito che era la stessa cosa se si sta nelle scuole, si sta nelle università, si sta nei luoghi di lavoro, presenza, solo presenza, è importante starci, esserci, il Papa è andato per dare la carezza ai cristiani, perseguitato, è andato per starci nel dialogo interreligioso, finora non si era mai aperto un dialogo con i musulmani sciti, è entrato fisicamente in una piccola stradina, è entrato in una casa a Najal, la città sacra, dove è sepolto il primo convertito al musulmanesimo, il cugino e genero di Maometto e c'è il più grande cimitero del mondo, a Najal si pensa, gli sciti pensano che essendo sepolti lì si vada direttamente in paradiso, è entrato nella casa del grande imam, del grande ayatollah al-Sistani, al-Sistani è una figura molto importante, molto rispettata ed era una visita privata, io credo che sia stata scelta questa formula da parte degli sciti per dire il Papa, vedete, è lui che viene da noi, abitualmente questi incontri si fanno in parallelo, in luoghi molto solenni, è entrato in questa casa e al-Sistani in segno di rispetto si è alzato, si è alzato due volte, una cosa che non fa mai né con i presidenti né con le autorità religiose, il Papa in aereo al ritorno ci ha detto è stato un grande onore, è un uomo di Dio, è un uomo saggio, il Papa non si formalizza, ha voluto fare questo, ha voluto essere anche in quella casa, rapportarsi con loro, andare sulla casa di Abramo, anche lì un incontro religioso, interreligioso, dove tutto è nato, da dove è partito Abramo, fidandosi della promessa di Dio, avrai una discendenza, ma lascia la tua terra, avrai un figlio, anche se siete vecchi, la moglie di Abramo si è messa a ridere, come è possibile, siamo vecchi, è ridicolo, ma Dio non si è arrabbiato per questo, la sua promessa l'ha mantenuta in ogni caso e così ha mantenuto la promessa anche per i cristiani perseguitati, uno dei momenti più emozionanti, più alti, quando siamo andati a Mosul e a Karakosha, a Korkosha, dove sulle case dei cristiani, quando è arrivato l'Isis, lì era la capitale, la capitale Mosul, dello stato islamico, che è durato per tre anni e sembrava inamovibile, non riuscivano ad abbatterlo gli americani, non riusciva ad abbatterlo la coalizione mondiale, pensate chi è rimasto lì dentro, chi non è riuscito a fuggire, i cristiani, sulle case dei cristiani disegnavano una N, una lettera infamante per indicare chi era cristiano, N, Nazareni, per indicarli, additarli, farli fuggire o si convertivano o venivano uccisi, una donna ha dato una testimonianza, dentro la chiesa c'erano quelli che erano fuggiti, che erano ritornati, quelli che hanno avuto lutti, che hanno vissuto questo periodo di stato orrendo che in nome di Dio uccideva le persone, in nome di Dio conculcava la fede, in nome di Dio obbligava a fare delle cose che gli esseri umani non vogliono fare secondo natura e questa donna ha detto è arrivata una bomba, noi speriamo che l'Isis non era troppo lontano ma eravamo tranquilli, facevano le cose tutti i giorni, una bomba ha ucciso mio figlio che giocava con altri in cortile, ha ucciso tre persone, uno potrebbe maledire ma io invece uso la parola perdono, perdono per questi che ci hanno fatto del male, perdono perché possono incontrare davvero il Dio dell'amore e non il Dio dell'odio che hanno venerato, perdono per loro, perdono per tutti quelli che ci hanno fatto del male e questo mio figlio e gli altri due sono degli angeli, uno potrebbe maledire per la morte di un figlio e invece io capisco che quello ha permesso a tante tantissime persone di fuggire, di mettersi in salvo, i cristiani di poter resistere, il Papa poi in aereo ritornando ha detto questo è Vangelo vivo, mi ha colpito moltissimo e sembrava veramente per questi cristiani che erano lì, che avevano subito, patito di tutto che fosse arrivato, la carezza del Nazareno, loro che erano stati indicati con vergogna come i Nazareni avevano ricostruito la chiesa, adesso sul campanile che era stato distrutto nella chiesa, era stato dato fuoco alle panche, le pareti erano tutte annerite, adesso ci hanno messo dei malmi a ricoprirlo, è nato fuoco a tutto, hanno bruciato e distrutto tutti i libri sacri, le immagini sacre, il coro era diventato il poligono di tiro dell'Isis, adesso è stata ricostruita, il Papa ha invitato a ritornare che i cristiani che possono ritornino, c'è stato un esito di 125 mila cristiani, Caracoscia era la città e con la maggior concentrazione in percentuale di cristiani dell'Isis sono dovuti fuggire senza portare dietro nulla, gli anziani a piedi senza neanche le medicine che gli servivano, pur di fuggire da questo stato che credeva che Dio ordinasse di fare del male agli altri, di conculcare la fede che è durato per anni, ma come per Abramo che si è fidato della promessa quando tutto sembrava dire il contrario, anche loro si sono fidati adesso sono ritornati a casa, adesso è ritornato il Papa, tra loro una grande emozione, una grande commozione, starci, starci, presenza, solo presenza, questa è la parola che mi ha colpito, che mi è rimasta di più nel cuore quando ci ho pensato, perché davvero nella vita bisogna stare vicino alle persone che ne hanno bisogno, vicino ai nostri fratelli perseguitati, vicino a chi anche non ha capito che cos'è l'incontro che abbiamo fatto ma che lo desidera profondamente anche fosse il nostro nemico e quella donna ha usato la parola perdono.